Non bisogna dimenticare mai il momento difficilissimo in cui viviamo, che sta attraversando il nostro paese e la nostra città. Quindi Rimini è attenta soprattutto ai nuovi fenomeni, anche alle nuove povertà e soprattutto alle nuove vulnerabilità, perché spesso le famiglie sono quelle, soprattutto quelle con minori e con genitori giovani e con contratti non a tempo indeterminato, quelle più vulnerabili in questo momento. In questo quadro si inserisce il sesto anno del Mese delle Famiglie, organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini. Dal primo al 31 ottobre per un mese il cuore della città sarà la famiglia. Tanti incontri, laboratori, letture e feste dedicate ai genitori, ai nonni e ai bambini. Domenica 21 ottobre sarà una delle giornate più intense, con la caccia al tesoro Gioca Rimini, in cui i cittadini più piccoli andranno alla scoperta della città attraverso libri, enigmi, curiosità e giochi. Pomeriggio poi dedicato alla festa delle famiglie accoglienti, affidatarie ed adottive, in cui si potrà partecipare gratuitamente ai laboratori e alle animazioni e ricevere informazioni sull'affidamento familiare e sull'adozione. Quest'anno all'interno del Mese delle Famiglie sarà ritagliato uno spazio particolare al Centro Educativo Italo-Svizzero, che dal topoguerra ad oggi ha saputo essere un punto di riferimento per la città. Si celebrano così cent'anni dalla nascita di Margherita Zebeli, fondatrice del CEIS, che ha speso la propria vita a costruire e a realizzare un modello educativo attivo ed inclusivo. Proprio a lei sarà dedicato il convegno che aprirà il Mese delle Famiglie. Margherita è una figura importantissima per la nostra realtà, per il nostro territorio. Margherita è nata cent'anni fa e quest'anno, in occasione del Mese delle Famiglie, volevamo ancora più valorizzare la sua figura e quanto abbia dato alla nostra città in tema di educazione. Dietro al fitto programma del Mese, una rete composta da Comune, Centro delle Famiglie e associazioni locali, che hanno lavorato in modo sinergico per offrire spunti di riflessione su tutti gli aspetti che riguardano la famiglia. Hanno così trovato spazio e incontri dedicate alla genitorialità in carcere, all'ambiente, al rapporto tra i medi e la famiglia, alla storia e alla cultura di Rimini, alla sicurezza stradale. In particolare quest'anno il coinvolgimento della Polizia Municipale nel sensibilizzare i genitori e le famiglie sull'importanza di allacciare e di rendere sicuri il viaggio in auto dei propri figli, ricordando anche che la prima causa di morte dei bambini è proprio dato dagli incidenti stradali. Grazie. Grazie.